Ciao a tutti! Oggi sono qua per consigliarvi qualche titolo perfetto da leggere durante il mese di dicembre perché richiamano all'atmosfera natalizia. Sono tutte storie ambientate a Natale o che hanno a che fare appunto con questo periodo festivo. Sono perfetti quindi come lettura, diciamo, a tema per il mese di dicembre, ma anche come regalo di Natale perché è particolarmente appassionato di questo periodo. Ho voluto selezionare per voi dei titoli che ho già letto, che mi sono piaciuti particolarmente, ma anche dei titoli dalla mia wishlist. Prima di cominciare però vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete seguirmi anche su Instagram e qua sotto in descrizione trovate il link a coffee attraverso cui potete offrirmi una simbolica tazza di tè o caffè. Grazie davvero di cuore a tutti! Parliamo con un grande classico che sicuramente vi aspettavate di trovare all'interno di questo video, ovvero Il Natale di Poirot. Questo è uno dei miei romanzi preferiti di Agatha Christie, al di là della festività natalizia, che però si fa sentire. Infatti una caratteristica principale di questo periodo è che le famiglie tendono a riunirsi. E anche in questo caso vediamo una famiglia che in realtà non è particolarmente legata, ma anzi ci sono non pochi attriti, però non si sa bene per quale motivo il vecchio signor Lee decide di radunare tutta la famiglia. E proprio in questa occasione, ahimè, perderà la vita. Ovviamente a indagare ci sarà il nostro carissimo Poirot che non si può riposare nemmeno il giorno di Natale e che tenterà quindi di risolvere questo mistero. Non il classico scenario da è tutto bene quel che finisce bene, possiamo dire così, però comunque l'atmosfera natalizia si fa sentire. Se siete amanti del crime, del giallo e di Agatha Christie questo non potete perdervelo. Altre storie secondo me perfette per questo periodo sono le fiabe. In particolare ci tengo a segnalarvi le fiabe di Iperborea. Io ho letto e amato molto fiabe lapponi e fiabe danesi, ma ho in wishlist anche le fiabe islandesi, norvegesi, finlandesi, insomma ne trovate tantissime. Non tutte sono legate proprio al Natale, però un tratto abbastanza ricorrente nelle fiabe di questo tipo dei paesi nordici è sicuramente la neve, il freddo, il gelo. Al contrario di quanto si possa pensare, non sono le classiche storie da leggere ai bambini, nel senso non sono tutte storie infantili, ma sono piacevolissime anche in età adulta. Come vi dicevo io ho adorato particolarmente queste due, quindi mi sento di consigliarvele. Tra l'altro anche le copertine richiamano molto il periodo di dicembre, l'inverno, sono veramente stupende. Tra l'altro essendo poi delle raccolte sono anche perfette da leggerne un paio a seconda della lunghezza la sera prima di andare a letto, oppure ad alta voce assieme ai familiari, amici, parenti, quello che è veramente, secondo me, un'idea molto carina per passare il periodo festivo. Ma poi ce n'è un'altra che ci tengo a consigliarvi, che magari non è strettamente legata al periodo di Natale, ma è una fiaba forse un po' meno conosciuta che io però ci tengo a consigliarvi. Ovvero Lolo, il principe delle fate di Sobo Mogdo, autrice che forse conoscerete per titoli come La Porta, l'altra Esther, Abigail, io lo spero perché è uno dei miei titoli preferiti dell'autrice. Ebbene, non ha scritto soltanto romanzi, ma troviamo anche questa fiaba che, ripeto, è molto piacevole da leggere anche in età adulta. Il protagonista è appunto il principe delle fate, che si presenta un po' come un vero e proprio bambino, perché è molto curioso riguardo al mondo in generale, e sua madre, la regina delle fate, deve un po' dividersi fra il ruolo di madre e il ruolo invece di sovrano. È una storia veramente molto carina, tenera, simpatica, che cela anche dei temi attuali per nulla scontati. Arrivati a questo punto probabilmente anche voi sarete reduci dalla visione di strappare lungo i bordi di Zero Calcare, la serie animata che potete trovare su Netflix, quindi quale migliore occasione per leggere un fumetto di questo autore. In particolare, a Babbo Morto. Ebbene sì, c'è anche un fumetto di Zero Calcare dedicato al Natale, anche se non è la classica storia rose e fiori, ma è una versione un po' più, tra virgolette, cupa e cinica di questa festività. Non pensate quindi di acquistarlo con l'idea di regalarlo a un bambino, perché non so quanto apprezzerebbe. È una storia, diciamo, per adulti. Tra l'altro esiste anche l'audiolibro su Storite, veramente molto molto carino, quindi nel caso io vi consiglio anche l'ascolto del fumetto, che è un'esperienza nuova, diversa, particolare, però sono contenta che siano riusciti a dare comunque qualcosa in più. Non si sente tantissimo la mancanza dei disegni in questo caso, proprio perché c'è qualcosa in più che va, tra virgolette, a sostituire. Vabbè, perdonate la piccola digressione. Altro grande classico che, se ancora non avete letto, questo è il momento giusto per farlo, lo Schiaccianoci. Io, in particolare, ho letto l'edizione di Rizzoli, che è illustrata, veramente una sciccheria, devo dire. Le illustrazioni sono di Sanna Annuca. I protagonisti sono due bambini che, come tutti i bambini, non vedono l'ora che arrivi il giorno di Natale per poter scartare i regali. In questa occasione un amico di famiglia regala loro uno Schiaccianoci, che può sembrare un oggetto normale, innocuo, ma durante la notte si animerà e da lì partirà una magica avventura, diciamo, per questi bambini. Probabilmente vi sarà capitato di vedere una delle tante trasposizioni animate, da Barbie alla Disney, eccetera, quindi forse la storia la conoscerete già. Nel caso io vi consiglio di recuperare anche il libro, perché è una lettura veramente molto molto piacevole. Altro grandissimo, classico, immancabile, Canto di Natale di Dickens. In questo caso il protagonista è un uomo avaro, proprio il Grinch per eccellenza. Forse anche in questo caso avrete visto qualche trasposizione animata, io ricordo con tantissimo affetto quello della Disney, con Topolino e il protagonista Scrooge, in particolare Zio Poverone. Come vi dicevo, proprio l'antinatale per eccellenza, che però incontrerà dei fantasmi che gli faranno un po' riflettere appunto su questo periodo, su come si è comportato, e gli faranno fare una sorta di viaggio interiore alla riscoperta di se stesso. In questo modo potrà valutare il modo in cui si è posto negli anni con le altre persone. Secondo me è la storia di Natale per eccellenza, perché ti porta un po' anche a rivalutare, diciamo, te stesso e a riflettere su alcuni temi, soprattutto su come ci poniamo nei confronti degli altri. Se come me amate un po' il genere giallo, o comunque non volete perdervi la vostra dose quotidiana di crime, anche a Natale, ci sono due bellissime raccolte che sono uscite però scarvolti, in realtà una uscirà il 30 di novembre, che sono il grande libro dei gialli di Natale, che è già uscito, una ricchissima raccolta di storie appunto, fra cui rientra anche Agatha Christie, se non sbaglio anche Arthur Conan Doyle. L'altro invece che deve uscire è il grande libro dei fantasmi di Natale. Nell'epoca vittoriana era tradizione che sotto Natale i periodici più diffusi pubblicassero racconti di fantasmi, se non proprio dell'orrore, ben lontani dalla tranquillizzante atmosfera del canto di Natale di Kensiano. Fra gli autori che troviamo in questo libro che raccoglie 60 storie ci sono ad esempio Joyce, Lovecraft, Carol, Alcott, eccetera. E a proposito di fantasmi, un libro che ho recuperato io e che leggerò a dicembre è proprio Natale con i fantasmi. Un'altra raccolta di storie, questa volta edita Neri Pozza, che in realtà è abbastanza breve, sono poco più di 200 pagine, infatti me lo aspettavo più corposo, però sono veramente molto curiosa, perché all'interno di questa raccolta ci sono due autrici che io ho già scoperto con altre opere, ovvero Natasha Pulley e Laura Purcell. Quindi sono veramente molto molto curiosa, se state cercando qualcosa di un po' diverso appunto dalla tipica atmosfera carina e cocolosa del Natale, questi titoli potrebbero essere perfetti. Piccola interruzione, causa corriere, comunque riprendiamo con un titolo che è un wishlist da un bel po' di tempo e che è una sorta di rivisitazione moderna della classica storia di Babbo Natale, ovvero i fratelli Christmas. In questo caso, il Babbo Natale, ovvero Nicholas Christmas, la sera del 24 è ammalato, per cui decide di affidare la consegna dei doni al fratello minore, con cui però è un po' che non si sente, quindi diciamo che i rapporti non sono idilliaci. Ecco, un aspetto secondo me molto bello di queste storie di Natale, abbastanza ricorrente, è proprio la riunione di famiglia, il ritrovare dei legami, diciamo, speciali. È più che naturale che all'interno della propria famiglia ci siano degli attriti e non è nemmeno detto che poi bisogna andare d'accordo con tutti, nel senso non ti scegli i parenti legami di sangue, quelli sono, quindi con alcuni magari vai d'accordo, con alcuni meno, e non è detto che per Natale, per le festività, per mantenere questa sorta di aria felice, festiva, tu debba perdonare tutto a tutti, amici come prima, eccetera, però può capitare a volte di magari non sentirsi con qualcuno, non per un motivo specifico, oppure di aver litigato con qualcun altro per veramente delle sciocchezze, e quindi è bello che in alcune di queste storie si ridimensioni il tutto e che ci siano dei momenti di riflessione applicabilissimi comunque alla vita quotidiana, quindi al di là della storia straordinaria, ci sia tanto invece della vita di tutti i giorni. Altra storia classicissima che io ancora non ho letto, è Lettere da Babbo Natale, di To El Kien. Fatemi poi sapere quali di questi libri avete letto, perché io non faccio tantissime letture a tema, devo essere sincera, però secondo me sono carine, io apprezzo tanto, ammiro tanto, chi riesce a farsi un bel programma di letture, a farsi qualche lettura così a tema. Ogni dicembre ai figli di Tolkien arrivava una busta francata dal Polo Nord, all'interno una lettera dalla calligrafia filiforme, uno splendido disegno colorato, erano le lettere scritte da Babbo Natale, che cosa carina, che narravano straordinari racconti della vita al Polo Nord. Dalla prima lettera scritta al figlio maggiore di Tolkien nel 1920 all'ultima toccante del 1943 per la figlia, questo libro raccoglie tutte quelle lettere, tutti quei disegni bellissimi in un'unica edizione. Ecco, questo potrebbe essere un bellissimo regalo di Natale per chi apprezza questa atmosfera natalizia oppure anche per i più giovani, però non lo so, perché secondo me queste storie potrebbero forse toccare di più, arrivare di più quando sei grandi, perché hai modo di processare un po' quello che hai passato e forse di comprendere meglio, no, quello che i genitori hanno fatto, fanno tuttora per te. Non lo so, mi sto già commuovendo. Questi erano quindi i titoli a tema Natale che volevo consigliarvi e segnalarvi, spero di avervi fatto conoscere qualcosa di nuovo, anche se devo dire se siete grandissimi fan del Natale e delle letture a tema molto probabilmente avrete letto tanti di questi titoli perché alcuni sono veramente dei grandissimi classici. In questo caso, mi raccomando, qua state nei commenti, fatemi sapere un titolo che consigliereste voi che magari non è così tanto conosciuto ma che affare col Natale o comunque con l'atmosfera delle feste. Spero che questo video possa esservi utile. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!